ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing di gran festa unboxing pokemon con la mia fidanzata ciao ragazzi è tornata anche lugrezia sul canale era qualche video che non che non la vedevate semplicemente perché ho voluto prendere una boccata d'aria da tutte le sconfitte che mi ha riservato in questi ultimi video allora oggi andiamo ad aprire finalmente la collezione di pikachu che è grande non riesco neanche a farla entrare tutta comunque adesso vi facciamo vedere tutto quanto benissimo raga le quattro carte che compongono la carta unione di pikachu è spettacolare adesso apriamo tutto e ve la facciamo vedere mi raccomando però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella così vi arriva la notifica quando pubblico un nuovo video e mi raccomando di iscrivervi raga perché ho visto che l'80 per cento dei ragazzi che guardano i miei video non sono iscritti al canale quindi se volete davvero darmi tutto il vostro supporto tanto ci mettete un secondo è gratuito iscrivetevi dunque collezione stupenda bellissimo bella davvero bella si presenta veramente benissimo fatte così bene fino ad adesso sono stati sono stati abbastanza bravi dietro mi ero scordato di dire che anche c'è la professoressa magnolia che è sempre una promozionale non so se è foil no non è olografica però comunque una promozionale del set che si nasconde dietro insieme al codice vediamo come posso farle uscire senza farle cadere tutte e quattro sono bellissime comunque una è caduta stupende raga veramente molto molto bella allora facciamole vedere piano piano aiutami anche tu vai aiutami anche tu tu tieni la parte di sinistra io la parte di destra quindi così yes guardate che belle no fissime poi le facciamo vedere bene perché è lo stesso art work della jumbo però volevo fargli vedere il pattern sopra vedete qui è tutto ruvido raga sono bellissime veramente adesso le andiamo che poi ora che ci faccio caso ci sono diversi pikachu cioè colorati disegnati in stile diverso sì questi qui dovrebbero essere gli artwork dei vari pikachu nei set capito nelle carte esatto che figo no guarda l'hanno fatto proprio bene si sono inventati hanno pensato veramente a tante piccole cose che però hanno fatto la differenza in queste collezioni perché ogni collezione ha un un ritorno al passato con il drag of old prime il lo zassian livello x quindi diamante per l'art gold e son silver finalmente ci hanno dato veramente qualcosa di bello da spacchettare anche in termini di collezioni e quant'altro comunque le carte unione le lasciamo qui vi faccio vedere al volo la professoressa magnolia che andiamo a proteggere anche lei perché comunque entra nella collezione di gran festa a tutti gli effetti essendo una sua promozionale e il codicino e codice in regalo perfetto allora facciamo vedere la jumbo così vedono bene l'art work perché abbiamo fatto un po un casotto prima guardate è bella che carini ma guarda tanti 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 belle questo qua andrà nell'album delle jumbo quello del venticinquesimo sempre quando quello che rilasciavano al game stop con il guarda soggetti vise vogliamo fa io questo e tu quello che qua c'ho fra cori ribelle almeno tu può essere che me pull il lì c'è il pikachu hyper da pull a ok sul voltaggio si ci sta ok facciamo io queste tre e tu quelle poi anche la collezione gialla veramente carina infatti ce l'ho notato pure io la prima volta che spacchetta lei raga è la prima volta che spacchetta gran festa sul canale è uscito con la collezione di zassian e di dragapult l'ho spacchettato da solo e qualcosina ho trovato tra cui il venusaur sono veramente contento e gli diciamo quello che vorrei trovare io perché mi hai fatto vedere il set gli ho fatto vedere gli artwork del set vai di dire i tuoi obiettivi modestissima sì ma testamente ovviamente charizard charizard poi che ora inizio aprire intanto mai tante fra cori ribelli possiamo anche chiacchierare mentre l'apriamo poi mio charizard e mio e umbra che sono le tre che vogliono ovviamente trovare tutti e poi reshiram zekrom bellica anche quelli l'ho detto nel precedente video anche io li voglio trovare perché perché in questa chiave moderna raga sono veramente stupendi già erano belli nella loro tra virgolette versione normale che non mi faceva impazzire perché quelle full art di nero e bianco non mi facevano impazzire come erano fatte però con il ruvidino il pattern che hanno messo a queste fuori serie di gran festa gli danno quel tocco in più non lo so sono belle poi mi piaceva allora mas crane e night hills raro fra cori ribelle vuoto poi volevi trovare l'oxerneas sì bello bello anche se non è rarissimo nel set però mi piace proprio il disegno il disegno l'artwork e poi il rei quaza che invece è un pelino più raro queste le mettiamo qui allora vai vediamo se hai trovato qualcosa in voltaggio sfolgorante piano ok qui c'era l'amazinga in teoria se c'era se fosse stata allora quindi lei è la prima volta che apre gran festa però due pacchetti sono solamente due quattro pacchetti due pacchetti a testa ovviamente dentro ci sono quattro carte non c'è il trick quindi mi raccomando squadra bene perché sono solamente 4 è perché il set in tutto è composto da 50 carte quindi sono 25 del set e 25 fuori serie quindi è normale che non ne hanno messi tanti a pacchetto però sono bellissime sono riguarda i pacchetti che belli questo è l'altro che è bello bello hanno fatto una bella cosetta no quando onore al merito hanno sono stati veramente bravi quindi non c'è il il trick quindi tu le prendi le giri e le squadri bene però si possono trovare sono tutte oro perché dentro ci sono solamente leggendari si possono trovare veramente diverso quindi si si è proprio scorda di tutto quello che ha spaccato fino adesso dentro si possono trovare solamente quattro oro quindi è un pacchetto vuoto si può trovare solamente una carta alla fine quindi l'ultima esatto però se c'è la fuori serie si trova al terzo posto ok ok quindi tu switchi le primi due switchi le prime due e poi rallenti perché al terzo posto potrebbe esserci la fuori serie allora adesso ti faccio vedere quindi niente trick lo giri così come si 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 ma ho capito allora intanto goditi gli artwork perché tu è la prima volta che li vedi allora chiogra mi sa che c'è qualcosa vediamo adesso ti faccio vedere cosmo che adesso switchi piano ok non c'è niente perché se no te ne saresti accorta però l'ultimo posto ci potrebbe essere yes all'ultimo posto però diciamo è meno rara di quella che si trova alla terza capito e vedi che l'avevo vista si è vimax mi sa che è un pikachu vimax pikachu volo vimax che carino questo però non l'avevo visto questo non l'avevi visto perché questo fa parte del set non è fuori serie quindi noi prima ti avevo fatto vedere solamente le fuori serie non vale niente perché è già stato sbustato a quintalate però mi mancava quindi buono allora io per quattro pacchetti aspetta però non abbiamo detto i punti queste quali così allora le fuori serie facciamo tre punti le vimax l normali il professore full art le vimax e quant'altro due punti le v un punto semplicemente allora che stavo dicendo a per quattro pacchetti ho preparato tre sleeve no ne avevo preparati ne avevo preparati tre una già l'abbiamo usata perché ti ho detto il pool è molto molto alto diciamo a meno che non siamo proprio sfortunati capito allora vai piano ecco già che ci sta lui bello se che magari lo trovo quello che volevo trovare allora switch a piano eh mi raccomando la terza piano piano vediamo se c'è il bordo oh è fuori serie fammi vedere ho già visto che è umbron è fuori serie vai pianino c'è che è umbron no io ho visto infatti no doppione già ce l'avevamo raga bellissimo e ricerca accademica bellissimo per carità la fuori serie uscita non so perché non ho visto nero però già ce l'avevamo peccato perché di acqua poteva esserci il dark gheridos e il blastoise ah cavolo invece è uscito ma non so perché io ho visto il nero cioè quando era blu però peccato raga bellissimo è per carità però poteva uscire qualcosina di diverso anche perché questo set punto a finirlo era sicuramente proverò a scambiarlo allora ultimo pacchetto per me speriamo di droppare almeno una fuori serie che cavolo niente trick graudon ma però sono belle eh xerneas un altro dai dai no niente fuori serie chiogre dai dai niente sol galeo si vede che è tornata lucrezia eh fino adesso ogni video pullava una fuori serie quindi aspetta questa quanto vale ha? eh questa non lo so perché quando l'ho trovata il primo i primi giorni stava sui 60-65 no di punti dico io ah 3 punti stai vincendo ah ok già hai vinto ah perfetto già hai vinto esatto girali subito sono spoileri ok codice ok vai graudon come piano eh reshiram wow che figo esatto piano oh aspetta è una fuori serie aspetta ragazzi non me lo ricordo il bordo è fuori serie ma il bordo è giallo chiaro addio che c'è la riserva no 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 non è c'è la riserva è un bordo mi sono andato l'antia potrebbe essere scusate non lo so non lo so non lo so madonna sono morto dentro devo andare a vedere se un bronce ha quel bordo vai dietro no ci sono rimasto male però ho capito ma mi hai bruciato due fuori serie così si ma io mi stavo a casa pensavo di aver trovato c'è la riserva mi mancava anche questo devo andare a vedere se un bronce ha quel bordo mi so veramente mi è venuto un infarto bellissimo raga mi mancava fuori serie ma abbiamo droppato ah io ho droppato due fuori serie in quattro buste io ho il mio pikachu volo vimax umilissimo da 2 euro belle 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 almeno una fuori serie che ci mancava questa qua sicuramente cercherò di scambiarla però per un attimo sono morto perché non me le ricordavo sono veramente poche quelle col bordo così bianchino capito ragazzuoli anche questo video è terminato noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like e un commento fateci sapere che cosa avete trovato noi in questa splendida collezione raga di pikachu vi unione noi vi ringraziamo ci vediamo in un prossimo unboxing ciao ragazzi ciao